Ciao ragazzi, è proprio qui in questo nuovo video Allora ragazzi, l'Inter, primavera ovviamente, vince la Viareggio Cup ragazzi Partita straordinaria, abbiamo fatto una buona partita Questo è il post partita di Inter Fiorentina Una partita che è appena finita e che l'Inter ha vinto il torneo Quindi vince la Coppa, l'Inter ovviamente la primavera Vabbè, era odd Quindi ragazzi, la partita lanciamo per 2 a 1 Una partita fantastica, siamo andati in svantaggio La Fiorentina è andata in vantaggio È in vantaggio, scusate La Fiorentina è andata in vantaggio Con il call di Sotil Sotil, vabbè fate voi, non lo so se si dice un tetto o un atto Non lo so, perché io ho trovato delle altre squadre Primavera non lo so, so solo So solo quelle dell'Inter ovviamente La Fiorentina è andata 1 a 0 nel primo tempo È finito per 0 a 0 Come inizia il secondo tempo subito Hanno battuto il gol al 45esimo A 45, 27 secondi Quindi come è iniziato il secondo tempo Noi sempre nel secondo tempo abbiamo fatto due gol Uno con Belcair e l'altro con Vergani Vergani ha fatto un bellissimo gol anche a Belcair Anche se la sottoporta Anche Bergani che è il portiere della Fiorentina Ha fatto l'errore Lui si è preso il pallone E l'ha buttato in rete Quindi la partita è ferma dove due a uno Siamo andati anche sui tempi sperimentari Primo tempo e su un tempo sperimentare Senza gol Quindi la partita è rimasta ferma su due a uno E abbiamo vinto È stata una partita straordinaria Fai sapere se volete anche altri 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 Scusate Se volete anche altri post partite della primavera Ovviamente non le partite normali del campionato Ma anche qualche coppa qualcosa importante Qualche partita importante dell'Inter primavera Quindi fate sapere tutto qui sotto nei commenti Allora Prima di parlare della partita Vorrei dire scusatemi per tutta questa assenza sul canale Comunque andiamo avanti La partita mi piace tantissimo È stata straordinaria Alla fine abbiamo vinto il trofeo L'ha vinto anche Stefano Vecchi Il trofeo degli allenatori L'ha vinto anche Zappa Zappa è giocatore dell'Inter Che ha vinto il trofeo se non mi sbaglio Come il mio giocatore dell'Inter Se non mi sbaglio Quindi Zappa ha vinto anche lui il trofeo E poi abbiamo vinto anche un altro trofeo Che non mi ricordo Qual era Non su chi Non mi ricordo Però comunque abbiamo vinto il trofeo Il trofeo del torneo Allora Zappa Ha vinto anche il trofeo se non mi sbaglio Come il mio giocatore dell'Inter Quindi anche Zappa ha vinto un trofeo Solo suo Poi anche Stefano Vecchi Ha vinto il trofeo del migliore allenatore Ma non l'ha vinto solo lui Ovviamente l'ha vinto anche L'allenatore della Fiorentina Ha dato questo trofeo a tutti e due L'allenatore se non mi sbaglio Comunque la partita l'ho vista Tutta su RaiSport canale 57 Quindi ragazzi Anche Stefano Vecchi Poi è un altro trofeo Che non ricordo qual era Poi comunque La partita si è giocata anche in memoria di Astori Con la maletta di Astori Anche del Generatore tecnico Una cosa di questa Non mi sbaglio Che aiutava anche i giocatori dell'Inter A prepararsi Nell'allenamento Se non mi sbaglio era questo Che purtroppo stamattina è morto Quindi mi dispiace tantissimo Però comunque La partita è finita per 2 a 1 Abbiamo vinto il trofeo E sono contentissimo Non so se alcuni si vedono la primavera Se ti fate anche la primavera Però io la guardo La guardo sempre La fa vedere sempre Anche su Sky Poi le finali Le fa vedere su 57 Su RaiSport Quindi la primavera Me la vedo Sempre Comunque ragazzi La partita è finita per 2 a 1 Con le reti di Belkheir E Vergani E per noi l'ha segnato Sottillo Sottillo Non lo so Comunque abbiamo giocato senza Emers Pinamonti Colidio Odgard Che erano tutti indisponibili E l'abbiamo vinta Lo stesso Quindi la partita come appena detto prima È finita per 2 a 1 Con le reti di Belkheir Per Ghani E per loro Sottillo Vabbè Quindi vinciamo il torneo La via Reggio Ok Ragazzi Lasciate un bel pochino in su Commentate Condividete Iscrivete al canale A tutta campanellina Per essere aggiornati Tutti Io su tutti i miei nuovi video Come sempre Seguitevi anche su Instagram Mi chiamo TonyAzzurriott Quindi come sempre Seguitevi anche su Instagram Sono contentissimo Della vittoria dell'Inter E abbiamo vinto il torneo E noi ci vediamo In un prossimo video Forza Inter Amala